Un Consiglio Comunale Fiume ieri sera che ha visto all'ordine del giorno diversi argomenti, fra questi la Commissione Edilizia che, come ha auspicato da molti, è stata abolita. Sappiamo che gli ordini professionali erano contenti di questa eliminazione e quindi è un modo per lavorare meglio, per lavorare in modo più snello e per lavorare in modo più veloce. Quindi un modo per sburocratizzare e un modo per semplificare, peraltro in un settore che in questo momento sta vivendo anche delle serie difficoltà dovute alla crisi economica. Al centro dell'attenzione è anche il rinnovo della Commissione Toponomastica che ha il compito di intitolare gli immobili e le strade della città. È una commissione che deve esistere in un comune ed è stata nominata con il professor Battistelli, il professor De Santis e la professoressa Brunori. Sono tre nomi importanti della nostra città che rappresenteranno prevalentemente la parte storica perché è la parte più importante che fa la Commissione per la Toponomastica. Il Consiglio ha dato poi il via libera al piano degli impianti di comunicazione elettronica. Molti comitati e associazioni cittadine da tempo denunciano questa mancanza del comune fanese. Grazie a questo piano, che presto verrà integrato nel piano regolatore, l'amministrazione potrà valutare dove dare il permesso di installare nuovi impianti e dove riposizionare quelli già presenti. È stata deliberata inoltre la convenzione che regolamenta i rapporti patrimoniali e finanziari con il comune di Mondolfo. Gli immobili del comune di Fano che sono utilizzati per servizi pubblici passano d'ufficio al comune di Mondolfo. Ovviamente questo passaggio doveva essere in qualche modo regolamentato. C'è l'accordo su questa parte e quindi questa parte patrimoniale che sono le vie, le scuole, il patrimonio pubblico che viene utilizzato. Ci sono un paio di questioni ancora in sospeso che verranno decise dalla giunta regionale che riguardano la ex scuola elementare di via Damiano Chiesa perché non era più scuola e quindi evidentemente il comune di Fano la rivendica in proprietà che debba rimanere al comune di Fano come l'immobile di via Ferrari dove abbiamo il centro civico ma che di fatto non era utilizzato e che quindi il comune di Fano lo rivendica. Per il resto tutti gli immobili sono stati passati al comune di Mondolfo. Credo che sia al di là del merito della questione del passaggio di Marotta su cui possiamo magari non essere d'accordo come fanesi però è giusto che questi rapporti finanziari e economici vengano regolamentati. Credo che anche questa sia una delibera molto importante.